Oltre a essere stato il feroce dittatore che conosciamo per la spietatezza, Hitler aveva lobby del disegno e della pittura e fu attivo in tal senso dal 1904 al 1914. Le sue ambizioni artistiche ebbero vita breve e venne per due volte rifiutata la sua ammissione all'Accademia delle Belle Arti di Vienna. Si stima che la sua produzione abbia raggiunto tra i 2.000 e i 3.000 pezzi e risulta probabile che il 90% degli stessi siano scomparsi. Dopo la seconda guerra mondiale alcuni dipinti ritrovati vennero venduti per decine di migliaia di dollari. Grazie a tutti.